70% di adesioni nel turno del mattino allo sciopero dei lavoratori della TEAM. Un risultato quasi insperato per la prima giornata di astensione del lavoro, ma che per i sindacati conferma comunque la fondatezza delle richieste avanzate da sempre. Proprio così, più che positivo, visto anche il clima che si è rispirato negli ultimi tre mesi, per capirci dall'ultimo sciopero fino a ieri. Il risultato quindi per quello che ci riguarda è positivo. Colgo l'occasione per l'ennesima volta per far presente alla collettività terramana che questo sciopero abbiamo fatto di tutto fino a domenica sera per evitarlo. Abbiamo chiesto più volte di trovare un punto di compromesso, ci siamo andati molto vicini. Facciamo fatica a capire per volontà di chi questo compromesso all'ultimo momento sia saltato. Ovviamente abbiamo i nostri convincimenti che fanno il pari con il timore a questo punto più che fondato che questa azienda sia sempre più gestita da una sola persona. I rapporti con l'amministratore delegato Luca Ranalli restano tesissimi. All'alba infatti l'ennesimo episodio duramente criticato dai sindacati. Alle 6 l'amministratore è uscito, ha preso un lavoratore e praticamente lo ha accompagnato lì dove si timbra. Io credo che questo sia un atteggiamento da vecchio padrone delle ferriere che nella nostra provincia non è mai accaduto. Per i sindacati ormai la parte pubblica in Team Ambiente non esiste più. Dobbiamo constatare che nel sindaco, nel presidente, governa questa società. Parte pubblica non c'è più in Team? La parte pubblica non c'è più. Sott'accusa poi l'atteggiamento avuto tra domenica e lunedì proprio dal presidente Pietro Bozzelli che ha rettificato una parte del verbale di accordo. Beh, la parte pubblica chiediamo, siccome non è più credibile, chiediamo le dimissioni. Perché se Piero Bozzelli non può più rappresentare, ormai ha perso credibilità e quindi per tante deve dare dimissioni. L'unica cosa può fare, non può prendere, stare in quel posto solo a prendere i denari quando non è in grado di rispettare il proprio compito. Intanto i lavoratori storici della Team sperano che la due giorni di disciopero cambi finalmente la situazione nell'azienda. Lei non la riconosce più la Team? Io no, io sinceramente ho sempre lavorato, non mi sono mai ammalato, ho fatto sempre personale, lavoro, ma adesso sembra che mi vogliono andare. Io ho pure 60 anni, quindi figuriamoci, però adesso non ce la facciamo più.